Sul non utilizzo dell'immobile di Via Anzio, già a sede del Dipartimento Agricoltura e delle attività produttive, interviene il consigliere regionale Aurelio Pace del Gruppo Misto. In una interrogazione indirizzata al Presidente della Giunta regionale, Pace fa notare che un patrimonio immobiliare abbandonato, oltre a costituire una pessima immagine per la pubblica opinione sull'utilizzo delle risorse regionali, rappresenta un danno erariale per l'ente che è costretto a pagare fitti per il mantenimento di altri uffici indispensabili per la comunità e allocati in immobili privati. Il consigliere dell'opposizione si sofferma, poi, sulle tante richieste in evase di utilizzo di strutture della regione per sedi associative di volontariato e senza scopi di lucro. Realtà, sottolinea, che meriterebbero maggiori attenzioni per il ruolo indispensabile che svolgono a favore della nostra comunità. Rivolgendosi al Governatore Lucano, Pace chiede di conoscere i motivi del mancato utilizzo dell'immobile e quali iniziative si intendono assumere in merito.